Buonasera a tutte e tutti. Cominciamo questa lecture, questo incontro, mi piace chiamarlo più così che una lecture in senso stretto con Gian Diego Carastro e devo dire che per me è molto bello incontrare Gian Diego, è la prima volta che incontro Gian Diego diciamo fisicamente seppur virtualmente ma è una persona che segue in realtà da molto tempo e conosco da molto tempo perché Gian Diego è molto attivo nei gruppi che si occupano di partecipazione in particolare nell'Associazione Italiana per la partecipazione pubblica di cui entrambi siamo membri. Questo incontro è organizzato dalla Scuola di Capitale Sociale che è una scuola che è nata da qualche tempo, siamo giovani, io sono del Consiglio Direttivo e ci occupiamo fondamentalmente di promuovere corsi con l'idea di far crescere il capitale sociale in Italia, lavorando soprattutto su temi come l'equità, sull'approccio etico e ovviamente sulla partecipazione che vediamo come uno strumento importante, tra l'altro anche del modo in cui facciamo formazione in questo senso, quindi lavoriamo su tutte queste cose. Gian Diego vi dicevo appunto, lo vedo per la prima volta fisicamente ma lo seguo da molto tempo, prego Gian Diego vieni aspetta ti faccio ti faccio rendiamo anche te più evidente e Gian Diego è eccolo qua, Gian Diego lo rendiamo più evidente e allora vi dicevo sì e Gian Diego è una persona che ho imparato a conoscere molto eclettica, si è occupato di partecipazione da molti anni nel movimento studentesco, è una persona appassionata che fa moltissime cose, oggi noi l'abbiamo invitato soprattutto però per il lavoro che fa Gian Diego che è un lavoro che è molto particolare, posso dire lui fa il monitore parlamentare, lavora per la SOGIN, si occupa fondamentalmente di seguire i lavori parlamentari, di vedere che cosa succede, di vedere come avanza il dibattito, di vedere che iniziative ci sono e quindi in questo senso come dire, lavora da un osservatorio privilegiato a guardare quello che succede sulla partecipazione in Italia e quindi appunto lo abbiamo invitato perché questo è un tema che ovviamente interessa molto la scuola e molte delle persone che si sono ovviamente collegate, se non tutte, forse anche tutte e perché ci sembra utile fare il punto su che cosa è la partecipazione in Italia e su qual è soprattutto la normativa sulla partecipazione in Italia e quindi questo è l'idea. Dopo questa una prima parte in cui Gian Diego ci racconterà un po' di cose, vorremmo anche poi aprire il microfono a domande, interventi, insomma lasciare anche una parte con voi di discussione e quindi aprire la discussione anche con voi. Però comincerei appunto da Gianlu, da Gian Diego. Ciao Gian Diego, tutto bene? Buonasera a tutti e grazie per l'invito a tutti i responsabili della scuola. Allora Gian Diego, cominciamo proprio da questa cosa, cioè dal tuo osservatorio, raccontaci come è la normativa sulla partecipazione in Italia, che cosa ci dice la normativa sulla partecipazione in Italia? Allora innanzitutto che è un tema in evoluzione, come tu giustamente dicevi io mi occupo di monitoraggio parlamentare, vale a dire di studio di emendamenti, proposte di legge diciamo decreti legislativi, schemi di decreti legge, che diciamo il Parlamento esamina quotidianamente. E la prima cosa che voglio dire è che il Parlamento è una struttura centrale nella nostra democrazia e quando parliamo di partecipazione il punto diciamo da cui partire è sicuramente la centralità del Parlamento. Prima ancora forse che rispetto al governo o ad altre diciamo istituzioni regionali e locali. Questo lo dico perché la centralità del Parlamento un po' mi spinge a dire anche alcune caratteristiche della partecipazione in Italia. Vale a dire il pluralismo che c'è in Parlamento, la possibilità di diciamo far incontrare saperi esperti con saperi diciamo comuni, infatti in Parlamento ci sono spesso le audizioni di professori universitari, di docenti, perché i senatori e i deputati non nascono tra virgolette imparati, anche loro hanno bisogno di conoscere le materie soprattutto tecniche e quindi c'è questo aspetto per cui anche i senatori e i deputati diciamo imparano qualcosa prima di approvare una legge e poi c'è la dialettica maggioranza opposizione. Per cui prima di votare un provvedimento c'è questa fase di ascolto reciproco, di ascolto dei tecnici, di approfondimento e questo avviene nelle commissioni parlamentari sia della Camera che del Senato. Da questo osservatorio che ho l'opportunità di frequentare, posso dire che la partecipazione in Italia si sta evolvendo grosso modo da una partecipazione per rappresentare interessi, da una rappresentazione per rappresentare diciamo contributi, a una rappresentazione per fare, a una rappresentazione anche per monitorare e poi lo approfondiremo magari meglio nel proseguo della nostra chiacchierata, però io diciamo colgo questa effigenza forte dal basso dei cittadini, delle associazioni, dei comitati di influire nei processi di elaborazione delle politiche pubbliche. Perché dico politiche pubbliche? Perché vorrei ricordare il professor Luigi Bobbio, caro a tantissimi e a tantissimi di noi, che quattro anni fa di questi tempi ci ha lasciato e lui è stato forse tra i primi in Italia, se non in Europa, a calibrare l'attenzione della centralità dei cittadini nei processi di elaborazione e formulazione di politiche pubbliche. Perché non basta che un Parlamento approva una legge o che un governo diciamo emani un decreto, ma occorre anche poi metterlo in pratica, la fase della cosiddetta implementazione. Quindi mi avvio alla conclusione di questa prima risposta, io vedo il trend, il mood di cittadini che si organizzano per quasi controllare, per monitorare anche loro, ecco per usare un collegamento col mio lavoro, quanto governo e Parlamento oppure regioni hanno deliberato. Ok, ma proprio dal punto di vista normativo, per esempio noi sappiamo che c'è la legge sulla partecipazione in Toscana, in Emilia Romagna, nelle Marche, la Puglia ha fatto una legge, la Sicilia ha fatto una legge e poi ci sono delle norme anche nazionali. Ci racconti un po' queste norme anche da dove vengono? Perché poi per esempio io ho cominciato a fare questo mestiere negli anni novanta su dei progetti europei, la Commissione Europea promuoveva questa roba, no? Allora come è strutturato adesso il sistema proprio che norma la partecipazione in Italia e finanzia in alcuni casi? Perché alcune regge finanziano. Allora ovviamente i pilastri, le fonti sono sia la Costituzione che i trattati che reggono l'Unione Europea perché già dagli anni 80 anche le istituzioni europee hanno puntato sulla democratizzazione tra virgolette del consenso sulla partecipazione dal basso e tutti i piani diciamo a carattere transnazionale quindi europeo avevano questa attenzione trasversale sul tema della partecipazione dei cittadini proprio come volano di miglioramento delle politiche pubbliche. Siamo nel ventennale anche della Convenzione di Arus o meglio nella ratifica da parte dell'ordinamento italiano della Convenzione di Arus che è questa convenzione che diciamo ha scolpito l'importanza della partecipazione dei cittadini relativamente a ciò che attiene alla sfera dell'ambiente. Per cui i cittadini hanno diritto di essere informati prima che diciamo una decisione sull'opera pubblica ha impatti sull'ambiente, l'ecosistema e quant'altro e mi preme anche dare questo riferimento diciamo di diritto internazionale della Convenzione di Arus. Venendo in Italia tu giustamente citavi delle leggi perché io sempre da questo osservatorio ho potuto notare l'importanza delle regioni nel far sviluppare una concezione organica della partecipazione. Non esiste che io sappia una legge italiana sulla partecipazione. Potrebbe essere qualcosa che nasce anche da questa serata però ci sono regioni come tu dicevi la Toscana prima, l'Emilia Romagna dopo, la Puglia, le Marche e recentemente anche la provincia di Trento che non solo diciamo disciplinano cos'è un processo partecipativo, le caratteristiche di un processo partecipativo che deve essere inclusivo, che ha bisogno di una figura terza, che disciplini il cosiddetto design organizzativo del processo, che abbia adeguati finanziamenti, che soprattutto si impegni nei confronti dei cittadini a dare un arrendi contazione e ma soprattutto sono finanziati. Andavo a vedere sul sito della regione Emilia Romagna dove esiste anche un osservatorio sulla partecipazione, ben cinquecentomila euro se non sbaglio per quest'anno sono stanziati per i processi partecipativi. Vale a dire, questo magari non tutti lo sanno, che genitori, insegnanti, semplici cittadini, associazioni, industrie, imprese possono proporre un progetto di partecipazione ad esempio di riqualificazione urbana piuttosto che di coinvolgimento dei bambini nella costruzione di nuove diciamo casette dei libri, ecco, e tutto questo in base a uno step proceduralmente preciso può far arrivare anche dei finanziamenti, cinque, dieci, quindicimila euro a progetto. Questo perché le regioni più che a livello nazionale secondo me stanno puntando molto sulla partecipazione. Non a caso cito appunto la Toscana, l'Emilia Romagna e la Puglia che sono diciamo, fanno da train da questo punto di vista. Ok. Fermo qui un attimo poi dico qualcos'altro dopo però ecco ti ridò la parola. No no vai vai se vuoi dire altro su su questi temi perché se no l'altra l'altra cosa che chiedevo è cosa io vivo a Milano e quindi mi dicevo bah e invece i comuni che stanno facendo mi permetto di aggiungere che anche il livello degli enti locali vive un periodo di effervescenza. Io ho potuto seguire come IP2 anche i nuovi regolamenti sulla partecipazione sia a Reggio Emilia sia a Milano dove accanto ai cosiddetti istituti tradizionali di partecipazione civica come la petizione piuttosto che il referendum si stanno cercando di introdurre delle nuove diciamo forme di partecipazione quelle più alla Habermas quelle più diciamo relative al dibattito pubblico prima di una grande opera oppure bilanci di partecipazione. Quindi il Comune di Milano ad esempio ha previsto anche queste due figure nei propri regolamenti del dibattito pubblico prima di una grande opera e dei bilanci partecipativi. In maniera molto stringata il dibattito pubblico poi qui abbiamo l'architetto Iolanda Romano che è un'esperta europea da questo punto di vista è un processo strutturato in cui i cittadini alla fine espongono le loro idee al proponente di una grande opera. Si crea una sorta di tavola rotonda di tutte le idee. Il moderatore che deve essere imparziale le raccoglie alla fine e diciamo sollecita in base alla sua esperienza e scienza e coscienza un dossier di fine progetto rispetto al quale il proponente l'opera deve rispondere motivando e questo è importante perché accetta o non accetta determinate critiche osservazioni tra due rette proteste anche dei dei cittadini. Mentre il bilancio partecipativo di cui uno dei massimi esperti è il professor Allegretti Giovanni, Giovanni Allegretti e sia in essere quando il comune o la regione desidono ad esempio che centomila euro del bilancio del comune della regione sono scelti dai cittadini attraverso una votazione dopo un periodo di confronto anche con i tecnici del comune e della regione per ad esempio costruire una nuova piazza oppure ad esempio rinnovare il parco comunale oppure altre opere di impatto di livello diciamo territoriale. Quindi ci sono delle effervescenze anche a livello di enti locali. Ok quindi c'è c'è una una parte diciamo un livello di comuni che si stanno muovendo costruendo dei regolamenti sulla partecipazione fondamentalmente che prevedono una serie di 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 possibilità di partecipazione regolamentate in un certo modo per i cittadini poi ci sono le 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 regioni e la provincia autonoma di Trento ci dicevi no che hanno delle leggi sulla partecipazione che in alcuni casi finanziano anche poi iniziative di partecipazione citavi l'Emilia Romagna per esempio anche la Toscana la Toscana la Puglia centinaia di migliaia di euro sì 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 che e spiegando in quali ambiti queste cose come debbano essere organizzati questi percorsi partecipativi e poi parlavi del dibattito pubblico il dibattito pubblico però c'è anche a livello nazionale adesso no? Esatto dal duemila e sedici esiste duemila e diciotto esiste il DPCM che lo regola un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione di un decreto eh legislativo eh del duemila e sedici che diciamo prevede appunto eh che per diciamo eh certe opere pubbliche eh in capo eh al Ministero delle 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 infrastrutture ehm si debba ehm attivare il dibattito pubblico e da pochi mesi esiste anche la relativa commissione eh nazionale che eh diciamo eh si può trovare anche sul sito del del MIMS ehm attuale che diciamo eh deve sovrintendere alla nascita di questo eh dibattito pubblico in Italia eh i dibattiti pubblici mh ce ne sono già stati in Italia alcuni regolati dalla legge regionale toscana eh sul porto di Livorno l'ampliamento e il miglioramento del porto di Livorno e sui gessi rossi a Gavorrano in provincia di Grosseto però sappiamo anche che Genova è stata un po' la piccola capitale di dibattiti pubblici eh pensiamo a quello portato avanti proprio dieci anni fa dal professor sempre Luigi Bobbio sulla eh si detta Gronda e anche un eh recente dibattito pubblico sempre sul sul porto a a Genova coordinata dal dottor Pilon quindi diciamo eh l'Italia tra virgolette ha questo istituto che è modulato dal debat public francese dove è diventato ormai una istituzione tipo Napoleone se va in Francia secondo me ecco parli di dibattito pubblico la gente sa di cosa si tratta perché ne sono stati fatti centinaia ecco dagli anni novanta ad oggi e speriamo che anche in Italia questa diciamo eh innovazione possa trovare piede. Cito anche un simile dibattito pubblico che secondo me ha tutte le caratteristiche che è attualmente in corso che è quello della consultazione e poi seminario nazionale per la individuazione del luogo dove ospitare il deposito nazionale per i rifiuti eh radioattivi in Italia. È una procedura che si è aperta qualche mese fa e che prevede varie fasi una fase nazionale poi fasi regionali e poi una fase conclusiva che è anche questo è un un diciamo un momento partecipativo innovativo eh in cui che si svolge sia presenza e soprattutto anche un online ma questo poi potremo anche sentire i nostri amici che si ascoltano sul tema della parte di anticipazione digitale quindi volevo anche citare questo seminario nazionale che è tuttora in corso e si concluderà eh a dicembre per cui eh per individuare il luogo dove ospitare in sicurezza eh rifiuti radioattivi è in corso un processo di consultazione. Ok e ehm quindi se guardando tutto queste cose no che si stanno muovendo e che ci stai raccontando sia a livello più locale che che eh regionale provinciale nazionale no con tutte queste iniziative eh come sta evolvendo questa cosa secondo te cioè che 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 come la vedi evolversi dal tuo osservatorio e intanto dico a chi sta ci sta ascoltando che se volete fare commenti o domande o cose potete usare la chat e poi apriremo comunque il microfono ma cominceremo anche da lì insomma a guardare. Io volevo citare questa esperienza ehm in cui il governo centrale eh sta facendo un'opera di mh raccordo con società civili e associazioni del civismo eh comitati dei cittadini eh che ha dato vita alle linee guida sulla consultazione pubblica in Italia eh un processo importante perché si prova insieme ai cittadini e alle associazioni a scolpire le caratteristiche di un processo partecipativo per cui per evitare di eh andare a mani vuote quando parliamo di partecipazione è un concetto talmente ampio che poi rimaniamo a stomaco vuoto eh questa iniziativa del governo quindi a linee guida sulla consultazione pubblica che ha dato vita poi anche a partecipa a PA e all'open government forum ma anche alle carte sulla partecipazione penso a quella dell'INU insieme ad IP2 sono il trend su cui secondo me dovremmo lavorare nei prossimi mesi se non anni anche nell'ottica del PNRR che tra i vari obiettivi e il piano nazionale di ripresa e resilienza eh ha tra i vari tra le varie missioni anche quelle della coesione sociale e oltre quello della transizione eh energetica o della digitalizzazione o del miglioramento del nostro sistema di istruzione e di formazione per cui io credo che anche sulla scia del PNRR cittadini e governo abbiano proprio questa missione di eh perché no chiedere al governo al Parlamento io direi di darci una legge nazionale questo è il mio punto di vista eh sui processi partecipativi che vuol dire questo che ci devono essere dei finanziamenti precisi perché fare un processo partecipativo eh ha dei costi che poi vengono restituiti anche nella felicità che le persone che coordinano un processo partecipativo sanno esserci nel volto delle bambine dei bambini dei ragazzi o dei ragazzi o degli adulti o dei nonni che partecipano a un processo partecipativo inoltre bisogna bisogna anche riconoscere la figura del coordinatore dei processi partecipativi una figura importante che andrebbe regolamentata andrebbe coccolata e andrebbe anche tra virgolette finanziata questo secondo me è un trend verso il quale noi potremmo andare con ragionevole eh certezza. Ok questo però fa parte anche delle aspirazioni no del dove potremmo andare ma intanto le cose stanno succedendo quindi il PNRR è una realtà in questo momento no non è una cosa solo che allora mi chiedo per esempio la partecipazione nel PNRR come come si sta come sta entrando si sta entrando a tuo sempre dal tuo osservatorio innanzitutto esiste proprio eh diciamo un un team del governo che in questi mesi sta ascoltando eh cittadini e associazioni del civismo per capire insieme come attuare questo PNRR perché sappiamo che è un piano che destina vari miliardi di euro per la ripresa per la ripresa in stile di di sostenibilità e resilienza ed è stato ecco concertato grossomodo dal governo e dal Parlamento però i cittadini secondo me hanno anche voce in capitolo o come diciamo coattuatori di certe misure del PNRR faccio l'esempio andando a sculciare uno delle azioni è quella di pensare ai nostri porti come dei porti green perché non organizziamo dei dibattiti pubblici come quello che c'è stato a Genova o diciamo a Livorno proprio su che cosa vuol dire che un nostro porto diventi green oppure ancora si parla di green communities sul tema diciamo anche del risparmio energetico eh dell'attenzione all'economia circolare al risparmio ecco queste green communities non sono altro che cittadini attivi che si mettono insieme partecipano all'attuazione del PNRR e lo rendono diciamo eh anche efficace questa è una prima fase la seconda fase che io individuerei come possibile è quella dei cittadini che tra virgolette monitorano eh i piani perché c'è anche questa come dicevo all'inizio eh accezione della partecipazione nuova del cittadino che in base anche a a alla capacità di gestire le mole dei dei dati aperti degli open data può fare eh esercizio di civismo attivo eh controllando anche che i piani e le azioni siano diciamo correttamente portati in essere quindi secondo me lo spazio grosso è sia come co autori di determinate misure sia come monitoratori o di controllori in senso civico però scusami tutto questo è quello che ti piacerebbe in un qualche modo che ci fosse che che vedresti come possibile applicazione la mia domanda era proprio cosa c'è adesso dentro il PNRR di partecipazione c'è qualcosa o non c'è? Guarda innanzitutto c'è eh proprio il dibattito pubblico per alcune grandi opere che diciamo debbono essere diciamo portate eh diciamo in esecuzione in tempi in tempi rapidi si prevede proprio anche la la figura di dibattiti pubblici cosiddetti eh accelerati eh dove invece dei canonici quattro mesi si accorcia a quattro mesi a quattro cinque giorni la sviluppo di questi dibattiti pubblici e già se andiamo sul sito della commissione azione sul dibattito pubblico ci sono già delle richieste dell'ANAS piuttosto che della rete ferroviaria italiana per indire questi dibattiti pubblici accelerati la sfida e qua posso dare un mio contributo ecco eh critico è quanto questa accelerazione poi eh non influisca negativamente sulla qualità del processo perché voi che siete esperti facilitatori sapete meglio di me che il tempo è denaro ma il tempo è anche importante per le voci ascoltare le persone contro ascoltare il vecchietto eh il migrante eh la persona sola eccetera quindi io ehm se posso dire stiamo attenti alla sindrome del bianconiglio e questa figura del libro diciamo Alice nel paese delle meraviglie che dice presto che tardi presto che tardi presto che tardi ecco io mi aspetto nel pnr che ha secondo me degli ambiti anche importanti sulla partecipazione e poi vorrei anche ascoltare le nostre eh partecipanti i nostri partecipanti stiamo attenti ecco alla sindrome eh del bianconiglio perché la partecipazione a necessita di tempi anche slow di tempi eh diciamo pagati di tempi diciamo di conversazione felice e di disputa felice per citare un un filosofo Mastroianni che ha dedicato proprio un libro a questo tema ecco va bene sì sì però quindi nel pnr è prevista l'applicazione del dibattito pubblico però con una procedura accelerata a quarantacinque giorni invece dei quattro mesi dopodiché chiaramente è un po' sfidante questa cosa lo sappiamo tutti ma questo è previsto ci sono altre cose previste nel pnr guarda in teoria tutto è modellabile con lo strumento della partecipazione se la consideriamo appunto come un driver cioè come un filtro attraverso una lente attraverso guardare eh le cose citavo appunto eh il tema della transizione energetica piuttosto che quello eh diciamo eh dei porti verdi le green communities io insisterei sul tema della coesione sociale siccome si destinano vari miliardi eh di euro sulla missione coesione sociale secondo me è proprio questo il centro cioè coesione sociale vuol dire partecipazione rinnovata partecipazione strutturata partecipazione ampia e plurale io non ho la bacchetta magica per dire come sarà questa diciamo partecipazione felice ma secondo me ci sono queste risorse per poterlo realizzare ok ok un'altra cosa che che almeno io ho visto io osservo no e che in un qualche modo è molto legata anche ai tempi che stiamo vivendo anche se viene da in un altro modo è tutto il tema della partecipazione nel digitale no e quindi tutto questo mondo della comunicazione online per cui anche noi non ci siamo mai visti di persona ma oggi stiamo eh chiacchierando insieme e in questa lecture e una cosa che che mi ha colpito molto negli ultimi tempi è come il l'istituto del referendum si è sfidato dalla dalla partecipazione digitale quindi dalla possibilità di firmare con speed adesso no e la la che ha fatto sì che i numeri a cui eravamo abituati dei referendum sono diventati apparentemente numeri piccoli piccoli perché le quella si raccolgono una quantità di firme impressionante rispetto a questo mi chiedo sempre e sempre ti ripeto veramente la mia domanda è molto cosa si sta facendo su questo in questo momento c'è un ragionamento su questo a livello legislativo o normativo che tu intercetti vedi nelle commissioni parlamentari per cui questa questa speed democrazia speed no che non è veloce ma è ma è ma è dalla firma digitale eh si viene in un qualche modo entra in un qualche modo nei meccanismi allora questo tema è un tema che eh dall'unione europea eh da una parte da una serie di anni a questa parte è sempre eh all'attenzione eh diciamo dei dei cittadini il punto è che non riesce a avere eh una ossatura eh legislativa anche in Parlamento ci sono vari convegni vengono udite varie persone esperte eh di eh open data di digitale ehm professori italiani all'estero che studiano queste queste tematiche eh come IP2 Associazione italiana partecipazione pubblica che compie proprio quest'anno i dieci anni abbiamo stilato un piccolo documento sulla necessità di un rule of law di internet ovviamente non siamo i primi non saremo nemmeno gli ultimi però c'è l'idea che mh bisogna anche qui chiedere al legislatore di intervenire per eh eh permettere che la giusta passione che nasce anche sui social eh sui nostri eh social media possa incanalarsi legittimamente costituzionalmente in processi anche di eh di ascolto perché sappiamo bene che c'è il rischio delle cosiddette bolle epistemiche per cui io che sono rosso la penso come i rossi tu che sei blu la pensi come i blu lei che è gialla la pensa come i gialli e manca la possibilità proprio di eh scambiarsi le opinioni che è una caratteristica secondo me eh bellissima della democrazia argomentativa dialogale deliberativa eh sul discorso del referendum io non sono un costituzionalista però l'Associazione Italiana Costituzionalisti e la Sapienza di Roma proprio nei giorni scorsi hanno fatto eh svolto un convegno su firma digitale referendum sicuramente è una cosa importante è stato introdotto nei mesi scorsi la possibilità appunto come tu dicevi di ricorrere a a speed per autenticare eh le firme per chiedere l'abrogazione di determinate leggi eh quindi è una cosa importante e va eh diciamo eh sottolineata e vissuta bene dal mio punto di vista eh come tu dici anche socio di EP2 vorrei che ci fosse anche l'attenzione alla cosiddetta parte Habermas della democrazia e faccio riferimento a questo grande eh filosofo eh tedesco europeo che proprio dice che l'illuminismo oggi c'è l'attenzione la capacità di usare la ragione in maniera collettiva necessita sempre più di dialoghi di qualità di dialoghi strutturati di dialoghi plurali e per questo non ci vuole solo il digitale ma ci vuole anche eh la cena ci vuole anche la fatica del mani dell'attaccare un manifesto eh chiamare le due di notte il grafico perché ok ok va bene non ha fatto il convegno ecco tutto quello che è democrazia più carnale ecco incarnata quindi io dico democrazia digitale certamente però non dimentichiamoci che siamo anche corpo e la pandemia forse ci lascia anche questa questo desiderio questo grido di tornare a essere corpi corpi felici e democratici va bene la felicità vedo che è una cosa che ti che ti sta molto a cuore come come a tutti gli esseri umani tendenzialmente ma eh allora eh va bene quindi eh ricapitolando e provando a tirare anche un po' le conclusioni andando verso una parte in cui invece poi apriamo apriamo anche spazio alle domande a qualche intervento se qualcuno vuole farlo ehm quindi abbiamo in realtà lo scenario sta cambiando mi sembra di capire anche a livello nazionale c'è sempre più attenzione al tema della partecipazione c'è un movimento che è stato un po' tirato da dal driver eh Unione Europea Commissione Europea da un lato e dall'altro le regioni no? Che hanno fatto molto su questo eh seguite dai dai comuni eh seguite in alcuni casi anticipate insomma dipende ovviamente la storia sempre più complicata di come la si fa e poi c'è un livello nazionale che sta diventando comunque sempre più attento anche a questi temi eh quindi c'è tutta la l'idea del dibattito pubblico il lavoro che si sta facendo sul dibattito pubblico c'è eh l'idea di anche di 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 percorsi ad hoc come quello che citavi eh sul sul deposito nazionale dei rifiuti radioattivi ah su questo volevo aggiungere c'è anche la partecipazione nella eh ricostruzione dei territori eh colpiti dal fisma eh certo c'è anche proprio una legge ad hoc eh che agevola la partecipazione civica nella ricostruzione se non sbaglio cittadinanza attiva ed action aid hanno firmato recentemente proprio un accordo quadro con il commissario straordinario per la ricostruzione proprio perché eh anche diciamo i cittadini vanno ascoltati ehm su come ricostruire diciamo certo certo dopo le ferite socio diciamo biografiche che si sono avute e volevo citare anche un'altra cosa su cui anche volevo magari aprire un dibattito con gli amici che che ci seguono da qualche anno la regione Sicilia ha fatto un cambiamento di prospettiva mh invece di fare come la legge eh in Emilia Romagna in Toscana nelle Marche nella Puglia di dare diciamo eh delle linee su cos'è un processo partecipativo eh sulle caratteristiche eccetera ha detto eh il due per cento dei finanziamenti che dalla regione vanno ai comuni devono essere spesi per azioni di democrazia partecipativa lasciando libertà eh ai comuni e alla società civile di organizzare questa partecipazione quindi la grossa domanda è è preferibile diciamo una partecipazione eh più strutturata e questo è garanzia di eh certezza di tempi di finanziamenti eccetera oppure come si fa in Sicilia e anche lì è è nata un'associazione di cittadini che segue proprio questo questo questi questi questo finanziamento oppure è preferibile diciamo lasciare carta bianca a enti locali e a diciamo cittadini nell'organizzare diciamo comunque eh momenti di democrazia partecipativa non so se mi sono diciamo eh sono stato aspetta un attimo perché non so se l'ho capito anche io allora tu dici la Sicilia si è mossa diversamente perché invece che regolamentare in un qualche modo con delle leggi sulla partecipazione eccetera detto perché io di impongo in un qualche modo chiedo agli enti locali di destinare un x per cento e obbligo proprio il due per cento due per cento che è una cifra anche molto alta in realtà tutti i comuni della Sicilia sicuramente sarà una cosa considerevole sì io io che che frequento anche la cooperazione internazionale la provincia di Trento è famosa perché almeno in passato non so se sia rimasta questa cosa ma c'era un vincolo dello zero tre per cento del bilancio provinciale destinato a progetti di cooperazione no cioè stanziato internazionale sicuramente sarà rimasto quindi questo questo è tu dici invece la regione Sicilia ha detto una quota parte del bilancio degli enti locali deve andare su queste iniziative poi le iniziative non le regolamento le lascio le lascio più libere in questo senso questa era l'idea no ovviamente si si avvarrà dell'expertise del facilitatore che secondo me è proprio una figura importante come se fosse diciamo un segretario comunale ecco per così dire diciamo no sicuramente non sarà lasciato allo sbando però invece che diciamo elaborare una legge che per fare una legge ci vogliono comunque mesi maggioranza opposizione eccetera in Sicilia hanno fatto più la soluzione quasi da bancomat diciamo no per cui i cittadini sanno che il due per cento dei soldi che la regione destina al proprio comune deve essere speso in democrazia partecipativa ok su cui c'è anche un commento di Francesca Paron che saluto la Sicilia è regione autonoma e quindi trasferisce finanziamenti ai propri comuni ciò non accade nelle regioni a statuto ordinario ok lo stesso dicono la provincia di Trento che ha un proprio ordinamento sugli enti locali cioè lei dice attenzione sono comunque sono sia la regione Sicilia che la provincia di Trento sono a statuto autonomo quindi hanno una certa autonomia che invece per esempio la regione Emilia Romagna in cui è la Paron non non ha in questo senso non c'è più la normativa nazionale di riferimento. Accolgo l'osservazione della dottoressa che ringrazio per la presenza però nulla vieta che una legge nazionale del Parlamento eh stabilisca che il due per cento dei finanziamenti che dallo Stato eh vanno eh ai comuni dopo la legge di bilancio siano eh diciamo eh destinati a democrazia partecipativa. Ecco provo anche a a fare il ping pong con con la cara Francesca. Allora io qui ho una domanda poi di Sabina Bellotti che dice quale modello possiamo derivare dall'esperienza lanciata dal Parlamento europeo insieme alla Commissione europea attualmente in corso con la conferenza sul futuro dell'Europa come Italia cosa possiamo derivarne e gli italiani stanno partecipando? Secondo me no cioè non stanno partecipando perché è poco conosciuta e io mi sono iscritto e faccio ammenda non diciamo ho contribuito come avrei voluto ehm perché un pilastro eh ringrazio eh la dottoressa per questa domanda dei processi partecipativi è la informazione cioè dedicare eh del tempo per informare i cittadini soprattutto le persone più svantaggiate e che diciamo difficilmente vengono eh raggiunte dai media mainstream su un processo partecipativo in atto. Questa sfida dell'Unione europea è fondamentale perché eh sia il trattato di Nizza che gli stessi trattati dell'Unione europea si basano anche sul principio della partecipazione attiva dei cittadini. Sappiamo che Bruxelles è molto lontana e viene ancora percepita come distante però secondo me è una cosa che è in essere e sulla quale chi è più esperto di me potrebbe anche tenere una prossima lecture perché merita veramente un approfondimento. Ok. Vediamo se ci sono altre domande. Arriva. Ok. Vabbè c'era un commento sempre della di di Sabina Bellotti su sull'autonomia di spesa diceva attenzione a sappiamo che qualche volta questi approcci hanno difficoltà a funzionare vedi la formazione no? C'è attenzione su questa cosa così. Ci sono domande? C'è qualcuno che vuole invece prendere la parola e fare un commento? Chiedo o fare una domanda eh direttamente a Gian Diego C'è una domanda di Teresa Lappis poi la leggo io. Il problema è proprio cosa evicolante cosa discrezionale sulla partecipazione. Può essere la partecipazione un riferimento eventuale di un'amministrazione l'ho letta così come scritta. Non sono sicura che sia chiarissima. E adesso Teresa aveva anche alzato la mano e forse ce lo può chiarire anche lei. Grazie. Volevo chiedere con questo perché scrivo sempre un po' veloce e non scrivo sempre bene. Volevo solo chiedere che è possibile che il principio di partecipazione che è fondante per uno Stato di diritto possa essere affidato discrezionalmente a un'amministrazione per condividere una scelta territoriale in uno Stato democratico come previsto anche a livello europeo considerando che la partecipazione è una condizione era una condizione sinaco non per entrare in Europa come difensore civico come gli istituti di partecipazione e noi in Italia poi invece fatichiamo ad attuarli cioè siamo ancora in una situazione tra costituzione formale e materiale ma io penso che la legge sulla trasparenza ci dia qualche cosa responsabilità del procedimento e richiesta nell'accesso universale di assunzione di responsabilità quando ci sono motivazioni sulle quali poi sarebbe bene aprire un dibattito dicendo informando le persone perché le persone non sono informate di cosa si discute perché come si ha accesso nelle pubbliche amministrazioni alle commissioni che prima ai consiglieri si dà la cosa e poi si discute siete d'accordo? Perfetto grazie Io non avrei nulla da aggiungere perché conosco la cara giurista Teresa volevo dire anche questo mi ha dato questo spunto che ha citato il difensore civico che negli anni 80 90 era all'avanguardia nei temi diciamo di garanzia e trasparenza soprattutto in determinate situazioni come il delante diciamo nelle carceri e quant'altro per dire questo accanto alla partecipazione ci sono anche temi cugini che secondo me meriterebbero anche una piccola citazione penso alla legislazione che il Parlamento con fatica sta cercando di portare avanti sui beni comuni cioè su come diciamo i cittadini possono fare loro quei beni che rischiano di essere vandalizzati o lasciati nell'incuria che invece potrebbero diventare un'occasione di inclusione di partecipazione di recupero anche in termini di ecosostenibilità quindi su cui questo tema penso l'ABSUS l'associazione che si occupa di laboratori su sfiderità sta occupando molto o penso anche al tema della rappresentanza di interessi ai cosiddetti diciamo lobbisti è un tema anche importante perché la partecipazione non è solo quella in chiaro ma lo sappiamo perché fa parte della dinamica della politica dei cittadini che si incontrano col sindaco piuttosto che con l'assessore ma anche quella dei cosiddetti lobbisti che in uno stato diciamo costituzionale svolgono anche questa funzione in un'ottica diciamo di trasparenza in un'ottica diciamo di correttezza vale a dire quello di rappresentare degli interessi nei confronti del decisore nella fase diciamo di costruzione del consenso su una decisione ovviamente lobbisti non solo intesi ad esempio come industriali ma anche fammi dire una cosa caro Gerardo come portavoce dell'ambiente dell'ecosistema e su questo dico una cosettina veloce magari dimmi se ho poco tempo il tema anche futuro e come dar voce a i fiori alle piante agli animali eh all'ecosistema eh cioè mh è possibile domanda che diciamo eh la desiderio la rabbia di Greta Thunberg si è introdotto anche nei processi legislativi a un festival della partecipazione a cui ho partecipato online due anni fa nel nostro gruppo che si occupava di ecosostenibilità lanciamo un'idea perché ad esempio a livello di diritto internazionale non considerare eh gli abitanti dell'Amazzonia come i portavoce più diretti delle piante delle foreste del sistema diciamo eh ecologico perché il tema secondo me anche questo come allargare la partecipazione tra virgoletta i non umani sì sì ma diciamo il tema della rappresentanza perché poi questo è il tema della rappresentanza è un tema enorme sempre nella partecipazione e non solo appunto tu lo estendi addirittura alla parte diciamo non umana del del pianeta ma già la parte umana è abbastanza complicatuccia come cosa c'è qualcuno che qualche volta mi diceva ehm noi ci dobbiamo occupare anche uno stakeholder nostro sono le generazioni future che ancora complica ulteriormente la cosa eh c'è una domanda di Davide Fortini che da Gian Diego se può spiegarci il profilo il ruolo e le funzioni del garante della partecipazione dove è previsto. Allora qui eh abbiamo dottoressa Paron che è presente che meglio di me può dare un'indicazione sulla legge dell'Emilia Romagna io partirei un attimo dalla legge sulla Toscana che ho più eh presente dove è presente proprio una eh diciamo autorità indipendente eh all'inizio monocratica formata da una sola persona adesso formata da tre accademici esperti diciamo in progetti partecipativi o comunque eh che masticano eh della materia i quali diciamo svolgono una funzione secondo me di eh meta garanzia eh perché ad esempio in Toscana ehm diciamo in base a scienza e coscienza in base anche ad un regolamento interno eh stabiliscono eh se un processo partecipativo eh è adeguato a rispettare tutta una serie di eh criteri appunto l'inclusività la trasparenza il pluralismo di voci eh la capacità di comunicare eh se stesso ai cittadini eccetera quindi io darei eh dottor Fortini che è intervenuto questa eh questa risposta eh in Toscana è presente eh nella figura diciamo eh dell'autorità indipendente sulla partecipazione in eh Emilia Romagna ma se vuole può intervenire ecco dottoressa Parone è presente proprio un osservatorio e un garante che se non sbaglio è direttamente diciamo individuato dall'aggiunta mentre in Toscana eh viene diciamo è proprio un'autorità appunto indipendente eletta dal consiglio eh regionale questa domanda mi è veramente mi permette di dire oltre ai garanti della partecipazione dobbiamo eh diciamo eh veramente innamorarci della figura dei facilitatori dei processi partecipativi come IP2 e come IAF l'associazione internazionale dei facilitatori stiamo provando a capire come dare finalmente dignità a questa figura perché eh spesso si chiama il cugino piuttosto che il vicino di casa no che fare un processo partecipativo ci vuole un facilitatore che sia strutturato che abbia determinate competenze abbia una certa empatia conosca un po' di diritto costituzionale di diritto europeo e soprattutto abbia tanta passione per la nostra democrazia. Ok io ti ringrazio per la pubblicità che continui a fare per noi e invece c'è la dottoressa che ha la mano alzata e quindi prego Francesca. Eh grazie a tutti grazie Gian Diego per questo entusiasmo che ci stai scaricando addosso ci fa molto piacere a me personalmente tanto eh no soltanto una precisazione riguardo al garante nella regione Emilia Romagna della legge il garante è eh individuato tra i dirigenti dell'assemblea legislativa è un modello diverso da quello della Toscana non è quindi una figura indipendente è incardinata nella nell'organico diciamo dell'amministrazione e eh quindi deve agli stessi ruoli che tu e le funzioni che tu hai citato poco fa e quindi la valutazione dei progetti se rispondono alle linee eh dettate dalla dalla regione naturalmente tutto questo riguarda i progetti che poi la regione finanzia non non mette lingua permettetemi questa espressione su progetti che autonomamente senza finanziamenti si vengono promossi dai territori e si realizzano no? Però per poter ricevere finanziamenti il tecnico di grazia della partecipazione a Emilia Romagna fa un'analisi dei testi progettuali diciamo così però è è individuo non è nominato dalla giunta questo volevo sottolinearlo quindi non è un elemento che promana dall'esecutivo ma dall'assemblea legislativa che ha altri compiti altre funzioni che sappiamo tutti quali sono. Ok grazie e grazie dottoressa Paronda e sul tema della democrazia digitale ve l'ho dimenticato di citare anche il ruolo che partiti e movimenti politici stanno avendo non penso solo alla piattaforma Rousseau per il Movimento 5 Stelle ma anche alle agora democratiche del partito democratico c'è questa diciamo eh tendenza anche a vivere eh la partecipazione che uno si immagina dentro la sede del partito anche in forma eh digitale e come novità se posso ecco esprimermi a favore di questo volevo dire anche tra qualche giorno nelle nostre diciamo città avverrà un fenomeno quello della istituzione dei cammini sinodali perché il Papa eh Papa Francesco ha chiesto alle chiese di tutto il mondo di darsi un nuovo volto diciamo eh più legato anche alla alla sobrietà alla povertà all'annuncio della gratuità del fondatore che è per i credenti è Gesù Cristo però al di là ad ecco di una visione confessionale c'è questa eh voglia del Papa di chiedere alle chiese di fare dei cammini sinodali io mi domando ma che cos'altro è un cammino sinodale se non un processo partecipativo vissuto a livello di parrocchia di gruppi ecclesiali di diocesi per cui io invito anche la cara scuola di capitale sociale a monitorare questo fenomeno dal diciassette ottobre quando in tutte le chiese d'Italia anzi del mondo si apriranno i cammini sinodali come funghi nasceranno dieci venti trenta facilitatori di processi sinodali e la chiesa che spesso può anche essere considerata un po' conservativa o retriva però è all'avanguardia da questo punto di vista perché proverà a declinare l'ascolto attivo eh l'ascolto soprattutto dei lontani eh la centralità eh dello scambio empatico nella propria fisionomia del futuro. Luca se ti può consolare quest'anno io ho seguito due ordini religiosi che hanno usato la partecipazione nella costruzione del del capitolo nella preparazione del cosiddetto capitolo e l'altro giorno ero al telefono con un sacerdote che vuole farlo vuole usare queste tecniche nella parrocchia mi chiedeva uso questo metodo quest'altro c'è molto c'è molto interesse anche nel mondo ecclesiastico per quello che sto vedendo io e molta attenzione come in tutte le organizzazioni eh voglio dire anche loro sono delle organizzazioni poi alla fin fine al di là del fondatore che loro è più importante diciamo come come sottolineati di quelli di tanti altri. Eh il messaggio è cercare la partecipazione anche dove meno ce l'aspetteremmo. Sì 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 sì. Sempre ritornando al PNRR o alla riqualificazione urbana. Ad esempio nel mio quartiere alcune mamme alcuni babbi con dei bambini stanno cercando di migliorare una pensilina dove il pullman non passa più una pensilina diciamo tra cosette emarginata e si vorrà ripitturarla ricostruirla farla diventare un piccolo punto sociale di biografie nuove dopo la pandemia. Quindi io l'invito è proprio partire anche dalle cose piccole tipo le casette dei libri. Un tempo si parlava dei dei nanetti che stavano nei giardini privati non so se conoscete il fenomeno sicuramente sì però c'è anche questo fenomeno delle casette dei libri. Nei parchi è un modo per diciamo avvicinare diciamo cura dello spazio pubblico, cultura, trasmissione dei saperi con semplici gesti mettendo delle casette dei libri. Secondo me anche quello è partecipazione. Va bene grazie Gian Diego sei come come dire la tua passione contagiosa veramente in questo senso. Io se non ci sono altre domande andrei a chiudere in realtà questo incontro e quindi se c'è qualche domanda ancora proprio un secondo così è buon momento per farlo altrimenti possiamo andare verso la conclusione anche in orario perfetto. Se prima di chiudere mi dai un minuto faccio un piccolo spot. Vai con lo spot. Non potrei anche perché Yolanda è la preside come dico io della scuola di capitale sociale. Lei si arrabbia. Sono la preside. Aspetta che ti metto in evidenza. No intanto se ci sono ancora delle domande spot benissimo e poi faccio lo spot. Se invece non ci sono delle domande chiudiamo in tempo che è un imperativo di noi facilitatori quello di chiudere in tempo le riunioni. Poi poi lascio a te ringraziamenti e la chiusura finale. Volevo solo ricordarvi che questa scuola la scuola capitale sociale è un'associazione di promozione sociale chiaramente no profit aperta a tutti quindi siete invitati non solo a visitare il nostro sito e scrivervi la newsletter ma anche a diventare soci se volete promuovere per esempio il tema della partecipazione che è uno dei temi cardine della scuola non solo perché facciamo dei corsi sulla partecipazione ce ne sarà uno a febbraio di Gerardo e me insieme ma anche perché utilizziamo il metodo partecipativo in tutti gli incontri in tutte le lezioni non tanto nelle lecture. Questi sono gli unici momenti frontali ma nei corsi diciamo la parte frontale è ridotta al 20 per cento tutto il resto è momenti interattivi eccetera eccetera. Volevo approfittarne per invitarvi a vedere le nostre proposte imminenti la prossima di cui Marco della segreteria vi sta mettendo il link in chat è un corso sulla moneta complementare che parte fra pochissimo e perché la moneta complementare è un esempio di economia collaborativa in particolare verrà tenuta dai fondatori del circuito Sardex è un esempio molto concreto di partecipazione nella costruzione di opportunità di sviluppo economico a livello di comunità locale e quindi vi invitiamo a promuoverlo e scrivervi se vi interessa e poi imminente un corso molto particolare almeno io non ne ho incontrati fino adesso che affidiamo alla filosofa Laura Campanello e che avrà luogo a anno fra novembre e dicembre in parte online in parte in presenza un corso che si intitola ricominciare e dedicato a un percorso esperienziale per tutti coloro che hanno subito una perdita che può essere un lutto può essere una malattia può essere la perdita del lavoro può essere una separazione può essere qualunque tipo di scacco che la vita ci ha portato ad affrontare e è un corso per proporre come vivere questa perdita come un'opportunità e quindi strumenti filosofici e non solo per imparare a ricominciare per una vita bella come mi ha scritto Laura Campanello nella dedica del libro quando l'ho comprato quindi vi invitiamo a seguirci e ripasso la parola a Gian Diego e ringrazio eh a Gerardo e ringrazio naturalmente moltissimo Gian Diego per questa bella lezione grazie a voi io prima di dare la parola a Gerardo un invito se ci vediamo a Firenze il 5 novembre che c'è il momento pubblico del decennale di IP2 dove continueremo a parlare di partecipazione eh il titolo è le sfide della partecipazione pubblica in Italia politiche e pratiche a confronto a Firenze il 5 novembre ecco se chi è interessato magari ci possiamo vedere là va bene e io niente ringrazio Gian Diego per appunto per le cose che ci ha raccontato e anche per l'appunto per la passione che ci ha dimostrato su questi temi e ringrazio tutte voi e tutti voi che avete partecipato e vi do appuntamento ai prossimi incontri della scuola oltre che i corsi insomma seguiteci unitevi a noi eh noi ci proviamo e quindi se volete provarci con noi siete i benvenuti e le benvenute